La Giunta Mosaner sembra essere intenzionata a realizzare un nuovo parcheggio interrato ad uso pubblico nella parte ovest dell'ex cimitero di Riva Centro, tra Viale Damiano Chiesa e Via Galas. L'obiettivo è di portare a compimento l'opera entro la fine della legislatura, nel 2020. La presenza di un effettivo progetto preliminare, firmato dall'ingegner Erino Bombardelli, e l'inserimento nel capitolo riguardante l'analisi di fattibilità, l'elenco di opere in attesa di finanziamento, sono i primi concreti passi mossi dall'amministrazione. Non si tratta di un'opera prioritaria, ha sottolineato l'assessore Zanoni, ma riveste comunque un interesse per la città, anche in considerazione della necessità di mettere mano e riordinare quel comparto. È un ragionamento che abbiamo avviato predisponendo un progetto preliminare, in modo da non farci trovare impreparati qualora si riuscissero a trovare le risorse per realizzare l'opera. La cifra stimata per il nuovo parcheggio interrato supera i 2 milioni e mezzo di euro. Il progetto, recentemente approvato in giunta, prevede un piano interrato con una capacità ricettiva di 115-120 posti auto, e la realizzazione in superficie di una pavimentazione a verde grigliato, rinforzato, e che consentirebbe, qualora lo si ritenesse opportuno, di utilizzare anche lo spazio sovrastante come parcheggio.